Ciao ragazzi sono Chris e oggi rispondo alle domande, ad alcune domande che mi sono arrivate nei commenti di molti video che ho fatto perché alle mie spalle vedete sempre questi pannelli forati portattrezzi e molti mi hanno chiesto dove li ha comprati, quanto sono costati e come si montano vi faccio una veloce panoramica anche perché già li ho installati e non vi posso fare vedere come si montano ma vi dico semplicemente che vanno montati con quattro tasseglie a muro e delle viti sfruttando il buco più vicino all'angolino è semplicissimo il montaggio, basta allinearli e il gioco è fatto io non ho sfruttato i fori che sono nella parte interna, come vedete qua quindi è possibile eventualmente mettere dei piccoli bulloncini nella parte più adiacente al muro per unirli prima di fissarli al muro, però io non l'ho fatto perché alla fine comunque l'installazione è semplice basta avere una livella, una livella laser quindi installate il primo, tutti gli altri li possiamo installare appoggiandoli a questo stesso questi qua che vedete sono della oreca, spero di dirlo bene e sono 980x4,60 in commercio abbiamo diverse tipologie di pannelli forati abbiamo il pannello in ferro 100x50 abbiamo il pannello in plastica 50x50 pannelli in ferro di diverse misure e abbiamo il pannello in legno, in questo caso MDF che troviamo già incluso nei banchetti da lavoro io personalmente non mi piace utilizzare il pannello forato sul banco dove lavoro perché spesso mi capita di sbattere o che cadono utensili quindi metto tutto da questa parte il pannello in plastica pro e contro come vedete non li ho montati e non li ho montati perché nel garage che avevo prima dopo 4-5 anni si sono spaccati tutti in quanto il sole batteva sempre sul pannello che aveva rovinato le caratteristiche della plastica come sappiamo la plastica qualsiasi tipo di plastica più o meno è fotodegradabile quindi si è seccata in poche parole si è seccata col sole come mettiamo i nostri utensili in questi pannelli? come vedete in questa inquadratura abbiamo due tipologie di fori abbiamo il foro semplice questo dove vanno inseriti tutti i ganci come questo in metallo ora vediamo le varie tipologie ok abbiamo pure dei ganci che sono disposti per essere inseriti su due fori ho dei ganci che hanno un supporto per poter sostenere chiavi o attrezzi di un peso maggiore e poi abbiamo i fori che hanno questo foro grande con questa asola che ci permettono di utilizzare i ganci di plastica quindi si inserisce si fa scorrere verso il basso ed è tutto il nostro gancio di plastica quelli che vedete qua sono solo alcuni dei ganci in commercio che sono più o meno quelli più utilizzati da me in base al tipo di chiave in base alle dimensioni e al peso ci sono ganci per tutti gli usi vi faccio un po' vedere i ganci che non sto utilizzando più o meno sono quasi tutti i modelli in commercio c'è qualche modello un po' più particolare ma in genere quelli che si utilizzano sono questi qua su questa tipologia di pareti possiamo anche appendere come vedete in questo caso dei set di chiavi di accessori che hanno il loro espositore che hanno il loro supporto in questo caso io ho tutte queste chiavi ben ancorate da questi due ganci quando mi serve qualche chiave apro e prendo così lo spazio occupato è molto meno che metterli in questo modo per esempio nel video vi faccio una breve panoramica ancora devo sistemare tante cose qui ho messo tutte le chiavi inglesi qualche pinza qualche cacciavite anche se cacciavite ormai utilizzo sempre quelli delle cassettine con i cricchetti qui ho messo quelle cose che non si usano frequentemente ma che mi piace avere a portata di mano così come l'aspirapolvera ad esempio o la rivettatrice per inserti filettati le fascette e altre cose da questo lato ci sono lì attrezzi per lavori un po' più pesanti saldatura taglio perché sono appunto vicini al trapano a colonna e alla piegatubi quindi lavori un po' più pesanti invece dall'altro lato vediamo che avendo poco spazio ho tagliato l'angolino posteriore per sfruttare il pannello da 100x50 piegato al centro quasi ho fatto un intaglio da questa parte sfruttando appunto l'angolino questi qua li ho presi dal Brico Center al prezzo di 12 o 13 euro non mi ricordo se ero 11,90 o 12,90 vi metterò il link in descrizione vi metterò anche il link in descrizione di altre tipologie di pannelli forati per attrezzi vi metterò anche il link per acquistare su Amazon tutti i ganci di tutte le tipologie che vi serviranno per appendere i vostri attrezzi un consiglio che vi posso dare è che per non ritrovarvi come me ed avere centinaia di ganci non utilizzati vedete più o meno quello che dovete mettere sul pannello forato quindi selezionate devo mettere i cacciaviti devo mettere le chiavi inglesi devo mettere le chiavi a Brico e cercate di comprare i ganci adatti a quel tipo di utensile altrimenti vi ritroverete con tantissimi ganci non utilizzati e comunque siccome i ganci non costano poco non è il caso di prendere tutti questi soldi e lasciarli come ho fatto io come sto facendo io in questo caso dentro uno scotolino lì inutilizzati prima di chiudere il video ti dico un trucchetto che ho usato nell'altro garage ma che ancora qui non ho messo in pratica perché la disposizione che state vedendo in questo momento è provvisoria in quanto ancora ho sparsi nelle cassette e negli scatoloni ancora molte chiavi molti attrezzi è che se volete evitare per esempio guardate per esempio questo gancio qua se volete evitare che succede questo quindi che vi cade il gancetto quando prendete la vostra chiave ci mettiamo da questa parte ve lo faccio rivedere quindi voi prendete la vostra chiave e il gancetto cade un trucchetto qual è? una volta definita la posizione destra e sicuri che non la cambierete prendere una pistola con la colla a caldo e quando c'è il gancetto inserito senza la chiave mettere un goccino di colla a caldo qua la colla a caldo poi comunque se la volete togliere vi basta fare un po' di leva si toglie facilmente in questo modo il gancetto sarà più stabile e non rischierà di cadere ogni volta che prendete la chiave ok ragazzi non ho nulla da aggiungere se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao